Tuo marito, dico tuo marito, per dire tuo marito è il tuo uomo, magari hai dei figli, non lo lasci se non hai un'alternativa, che lo lasci così, per stare sola con i figli, non esiste, non ho mai sentito. Ma magari invece la convivenza è diventata insopportabile, magari capisci che non hai più una strada con questa donna. Non è brutta, non è brutta, ma è così, ma vale per gli uomini, ma vale per gli uomini. Quindi è pulito, noi invece non lasciamo la donna e andiamo con un'altra, quindi per voi siete più pulite, voglio dire. Ormai ci siamo adeguati anche noi al vostro stand. Questo è vero, eh? Questo è vero. Sì, lo so, lo so, ma è bello, quindi non ti devi seccare. Padre, a me mi dispiace che l'età al centro del tutto. No, no, ma è interessante. No, hai capito, va bene così. Allora, continui per gli acquisti. Grazie.